Ciao ragazzi, un saluto da Luca Di Leonardo, direttore di TuttoFantacalcio.it In questo video, come di consueto, andrò a indicarvi i consigliati, gli sconsigliati e le scommesse di questa nona giornata di campionato. Vi ricordo che se aveste qualche dubbio riguardo alla vostra fantaformazione, potete scrivermi qua sotto nei commenti su YouTube. Appena mi arriva la notifica, chiaramente avrete la mia risposta. Vi ricordo inoltre che ci sarà l'anticipo venerdì alle 20.45 con Verona-Sassuolo, quindi occhio a schierare per tempo la formazione. Ma vado ora a indicare i consigliati di prima fascia in base al reparto. In porta sicuramente Andanovic, al di là dei 5 gol subiti in queste due ultime partite contro Sassuolo e Juventus, il portiere nera-azzurro è sicuramente un top di reparto. E nella sfida con il Parma, un Parma che fa fatica a segnare in trasferta, assolutamente schierabile. In difesa consigliato Manolas, sarà titolare insieme al suo compagno di reparto Koulibaly, è più in forma rispetto a lui, ha già due gol all'attivo e nella sfida contro la Spal può fare un'ottima prestazione. A centrocampo consigliato Milinkovic Savic, il centrocampista serbo della Lazio, ha un gol e due assist all'attivo, non ha iniziato benissimo questo inizio campionato, ma piano piano sta ritrovando la forma e contro la Fiorentina può fare un'ottima prestazione. In attacco consigliato Lukaku, fresco di doppietta contro il Sassuolo, ha già 5 gol all'attivo in queste prime 8 giornate di campionato, nella sfida con il Parma può ancora trovare il bonus. Vado ora a indicare i consigliati in seconda fascia. Importa Gollini, al di là del fatto che ha preso 5 gol nella sfida contro il Manchester City, ha subito 12 gol in 7 partite, una partita l'ha giocata a Sportiello, quindi ecco perché sto valutando in base a 7 partite e non a 8, però sfida l'Udinese che è la squadra che segna meno in campionato, appena 4 gol all'attivo, quindi mi sento di consigliarlo per questa giornata. In difesa consigliato Alexandro della Juve, nella sfida contro il Lecce può fare la differenza, non è ancora andata a bonus, ma in questa domenica penso che possa fare un'ottima prestazione. A centro campo consigliato l'Argentino Ansaldi, il Torino sfida un Cagliari in ottima forma, Ansaldi da quando è rientrato sta facendo la differenza, ha già portato un gol e un assist e nella sfida con il Cagliari può trovare un ottimo voto in pagella. In attacco consigliato Correa, nella sfida contro la Fiorentina può fare la differenza, ha trovato di nuovo il gol nella sfida con l'Atalanta, chissà che questo gol non gli possa dare quella continuità che tutti i fantallenatori che l'hanno acquistato stanno aspettando. Vado ora a consigliare le scommesse per reparto. In porta o una scommessa può essere Silvestri del Verona, giocherà contro il Sassuolo, un Sassuolo che gioca prettamente offensivo, un Sassuolo che segna pegamento ogni partita, ma Silvestri ha subito appena sette gol le prime otto giornate, quindi se non avete alternative migliori si può scommettere il suo schieramento. Un altro nome scommesso in porta è Skorupski del Bologna. Il Bologna in casa subisce poco, Skorupski è vero, non sta attraversando un'ottima fase di forma, però la Sampdoria fa fatica ad andare in rete, quindi direi che anche Skorupski si può schierare sempre che non abbiate ovviamente alternative migliori. Ultimo nome scommesso in attacco è un rischio, ovvero Radu del Genoa. È il portiere più battuto della Serie A, 20 gol in otto partite, però il Genoa ha cambiato allenatore, cambierà modulo, giocherà con la difesa a quattro anziché a tre, quindi magari può avere maggior copertura e nella sfida con il Brescia può sicuramente essere schierato, almeno per un buon voto in pagella, utile per il modificatore. In difesa, come scommesso indico Danilo del Bologna, è ritornato al gol domenica scorsa, non ha avuto un buon inizio di stagione a causa di un problema muscolare, ma è sicuramente il difensore più schierabile attualmente del Bologna, contro una Sampdoria che fa fatica ad andare in rete. Altro nome scommesso in difesa è Kumbulla, il difensore albanese del Verona, è sicuramente una delle migliori sorprese di questo inizio campionato, va più volte a saltare nei calci d'angolo e chissà che non possa trovare un altro bonus, visto che il Sassuolo comunque in difesa è un po' ballerino. Ultimo nome scommessa in difesa è Ghiglione del Genoa, già a tre assist all'attivo in queste prime otto giornate, Contiagomota potrebbe addirittura giocare nei tre davanti. A centro campo, come scommesso indico Castrovilli della Fiorentina, un titolarissimo per Montella, ha trovato il primo gol stagionale due settimane fa, ogni partita va vicino alla rete, chissà che nella sfida con la Lazio non possa essere lui la sorpresa di giornata. Altro nome scommesso a centro campo è Malinowski, centrocampista ucraino dell'Atalanta. Il Papu Gomez è in dubbio per un problema muscolare, ecco che Malinowski potrebbe essere titolare e giocare trequartista dietro le punte. Tra l'altro nella sfida in Champions League contro il Manchester ha battuto lui il rigore e quindi può essere lui il nuovo rigorista dell'Atalanta. Ultimo nome scommesso a centro campo è Amrabat, il giocatore marocchino-alandese del Verona. Non ha ancora trovato bonus in queste prime otto giornate ma è sempre uno dei migliori in campo e nella sfida in casa col Sassuolo chissà che non possa trovare il primo bonus stagionale. In attacco scommesso a Palacio. Palacio ha già due gol l'attivo in questo inizio campionato, si è sbloccato in casa due settimane fa, non aveva mai segnato in tre anni di permanenza al Bologna, chissà che non possa replicare il bonus contro la Sampdoria. Altro nome scommesso in attacco è Muriel dell'Atalanta. Sicuramente parlare di scommessa è un po' riduttivo per lui, però non abbiamo la certezza che possa giocare titolare ma in ogni caso anche da subentrante deve essere schierato in questa sfida. Ricordiamo che ha già cinque gol all'attivo in appena cinque apparizioni. Ultimo nome scommesso in attacco è Pina Monti del Genoa. Andrea Azzuoli non lo vedeva tanto, infatti ha giocato due partite titolari, le altre volte è entrato nella ripresa e addirittura è stato senza voto per altre due partite. Nella sfida contro il Brescia con il nuovo allenatore che punta tanto su di lui va assolutamente schierato a meno che non abbiate tre attaccanti migliori di lui. Vado ora a indicare gli sconsigliati di giornata. In porta ha sconsigliato Sepe. L'Inter in casa segna sempre, il rischio è che prenda almeno due gol in questa sfida. Sconsigliato in difesa Rispoli del Lecce. Dalla sua parte avrà Ronaldo quindi fate un po' voi se è il caso di schierarlo in questa giornata. A centrocampo sconsigliato è Kdal. Il centrocampista Doriano al fantacalcio ha poca appetibilità. Non porta bonus, in trasferta difficilmente prende la sufficienza e nella sfida col Bologna può anche rischiare il malus. In attacco sconsigliato Lasagna dell'Udinese. Appena un gol in stagione, l'Udinese è la squadra che ha segnato a meno in campionato e inoltre non ha garantito la titolarità. Quindi direi assolutamente di non rischiarlo in questa giornata. Vi ricordo ragazzi che nel sito radioradio.it sarà online l'articolo riguardante i consigli, i top 11 della nona giornata. Non vi resta che salutarvi e augurarvi buon fantacampionato a tutti. Ciao ciao!